Buongiorno, sono Giovanni Federico, sono membro della sezione Poul e sono qui per fare un'introduzione al linguaggio di programmazione di CQPU perché è il linguaggio che poi verrà utilizzato per mostrare gli esempi di programmazione di CQPU. Qui al Politecnico non si insegna tra i corsi di programmazione il CQPU. Io partirò avendo come solo preso il supposto la conoscenza del C. Questo perché oramai i linguaggi di programmazione di oggetti vengono insegnati al terzo anno e quindi per rendere questa presentazione comprensibile anche a chi è al primo anno o al Politecnico o al secondo anno, darò come solo preso il posto la conoscenza del linguaggio di programmazione di CQPU. Ok, allora cominciamo con le caratteristiche del linguaggio. Allora, c'è qui un linguaggio di programmazione multiparadigma. Cosa significa multiparadigma? Per capirlo bisogna un attimo capire cosa sono i paradigmi di programmazione. Quello che avete visto per quelli che conoscono solamente il CQI è il paradigma di programmazione procedurale. ossia si prende un problema, lo si scompone in funzioni, una funzione fa un qualcosa di abbastanza ben definito e abbastanza piccolo per essere comprensibile, dopodiché combinando varie funzioni si risolvono problemi arbitrariamente complessi. L'altro paradigma di programmazione molto famoso è quello Object Oriented che è quello che andremo a vedere dopo come parte di questa presentazione. ci sarà quindi anche... ci sarà quindi anche... ho già visto anche il paradigma di programmazione oggetti, per gli altri invece lo introdurrò verso la metà di queste slide. Altri paradigmi di programmazione sono quello metaprogrammativo in cui non si scrive direttamente il codice, ma si scrivono delle istruzioni per così dire, per fare in modo che il compilatore generi il codice per me, diciamo. questo è un po' semplicato ovviamente, C++ ha un linguaggio di paradigma nel senso che supporta più paradigmi di programmazione e i principali paradigmi di programmazione che supporta il C++ sono quello Object Oriente, quello procedurale e quello metà di programmazione. È un linguaggio di programmazione compilato, esattamente come il C, nel senso che il compilatore produce direttamente del codice macchina, se siete su un computer come questo genera codice macchina per processori Intel X86, se siete su uno smartphone genera codice macchina per processori ARM, non ci sono interpreti o virtual machine tra il linguaggio e l'esecuzione, contrariamente a Java che ha una virtual machine, i compilatori di Java che hanno un bytecode che viene poi interpretato o compilato just in time in una virtual machine. ha una sintassi C-like, per sintassi C-like si intende che i blocchi di codice si indicano con le parametri grappe, che c'è il live, il form, il while, o come siete abituati, diciamo, con il C, come d'altro è anche Java, ha una sintassi C-like. Infatti deriva dal C ed è quasi finalmente compatibile. Questo significa che potete prendere un programma in C, compilarlo con un compilatore C++, e se non state utilizzando qualche superficie o qualcosa del genere, il codice C è anche codice C++. Di solito, i casi in cui un programma in C non compila come programma C++ è quando utilizzate delle parole, per esempio degli identificatori delle variabili, che sono riservati in C++. Per esempio, poiché il paradigma è object-oriented, ci sono le classi, c'è la parola chiave class, che come struct in C, che inizia una struct class inizia una class in C++, se in C avete chiamato una variabile class, il codice non combina come codice C++, però a parte questi casi, il codice C è anche codice C++. Combinatori e ambienti di sviluppo sono disponibili per la maggior parte dell'architettura. C'è un linguaggio molto diffuso. Si può programmare in C++ per destra o per server, qualunque sistema operativo, Linux, Windows, Mac, ma anche altri sistemi operativi come... Adesso non vedo in mente di altri. 3DSB è un altro sistema operativo open source, per cui ci sono compilatori C++, mobile, sono disponibili gli ambienti di sviluppo per i cellulari, o comunque compilatori, che consentono di prendere codice C++ compilato e farlo funzionare su un cellulare. E nel caso di micro e similiano, la programmazione si porta costituzionalmente anche utilizzando le librerie e biche, quelle che chiederemo a venire dopo l'introduzione del C++. Sono disponibili compilatori anche per ambienti e vende del microcontro mobile, ad esempio tipico l'Armino, e per ora per una grande serie di altre piattaforme, per esempio per le mie persone con soldi e video giochi. Ok. Questo è un po' un modo di categorizzare i vari linguaggi di programmazione con tre macro-paratteristiche. Un linguaggio può essere veloce, quindi quello che mi importa è che il programma a realtà esegua tante operazioni, faccia il calcolo in modo velocemente, può essere di alto livello, quindi utilizza ad esempio la programmazione oggetti, ha dei costrutti che gli consentono con poche linee di codice di fare cose complesse, oppure può essere semplice, nel senso che è una situazione semplice per imparare, ci vuole poco tempo per apprendere il linguaggio. S&T l'offert di linguaggi di programmazione che hanno tutte e tre queste caratteristiche non ce ne sono, perché di solito quando uno si porta su qualcosa di semplice e di alto livello, una maggiore astrazione, fa sì che ci sia più in direzione, quindi il codice gira più lentamente, diciamo. Quindi la domanda che ipoteticamente uno può chiedersi, quando preferire un linguaggio di programmazione, è past, simple, line, letter, tick, edit, ossia prendete le due su tre. Andando a vedere linguaggi che hanno una sola delle caratteristiche e non sono poi così interessanti, tutto sommato, cioè nel senso che sono linguaggi semplici, però non è di alto livello, di veloce, vabbè, uno perché dovrebbe scegliere. Un linguaggio che ha tutte e tre le caratteristiche, come abbiamo visto, non c'è anche se molti tentano di raggiungere questo, poi di solito finiscono per essere semplici, ad alto livello. I linguaggi, diciamo, interessanti sono quelli che hanno più di una caratteristica. Il C è un linguaggio semplice e veloce, veloce perché è compilato, comunque le istruzioni che ha si mappano abbastanza bene sull'architettura dei processori, è semplice perché, se ci pensate che cosa chiedete, avete le funzioni, avete le macro, come modi di strutturare il codice, potete fare delle funzioni, oppure potete fare delle macro. Per invece rappresentare i dati avete gli array, l'extract e l'elum e vabbè le type-lapse per definire nuovi tipi. Invece per i costrutti di controllo avete l'if, il form, lo switch e un po' di altre cose. Comunque, è un linguaggio che ha pochi costrutti e che quindi si impara, diciamo, relativamente in modo semplice. Se andiamo a vedere linguaggi come Java che vi aveva spiegato a Gazzano per chi non l'ha ancora fatto, oppure C-Cup, sono linguaggi che sono semplici e sono ad alto livello. Sono semplici perché, anche in questo caso, hanno pochi costrutti. Di solito tolgono le funzioni, per esempio, che il C-A e lasciano solamente il paradigma di programmazione oggetti, quindi si può programmare solamente all'interno di classe. E sono di alto livello, appunto, perché supportano la programmazione obiettoriale, maggiore attrazione, cose del genere. C-P-P-U invece è un linguaggio che si propone di essere ad alto livello, quindi supporta la programmazione degli oggetti e consente di avere strutture dati complesse da programmare in poche righe di codice ed è veloce, esattamente come C. Quello che succede è che però non è semplice da imparare, perché, anche semplicemente per il fatto che è multiparadigme, ha tre paradigmi di programmazione principali, uno li deve conoscere bene o male perché tre. E quindi c'è di più da imparare. Il vantaggio rispetto al C è che non sempre un linguaggio semplice porta a dei programmi semplici. Per esempio, se in C dovete gestire delle strutture dati dinamiche, si finisce a fare delle liste appuntatorie, ad esempio, solamente che se ne deve scrivere il programmatore le liste e magari fa dei bar che dopo si trova a debargarle o qualcosa del genere. Invece, in un linguaggio come C-P-U i tipi dati come le liste sono già disponibili. Quindi è un linguaggio più difficile, nel senso che comunque uno deve impararsi anche la libreria che è una libreria più estesa rispetto a quella del C, però può portare a programmi più semplici se usato bene come linguaggio o un movimento veloce. Ok. Passi a passo. Ovviamente in due ore non è possibile spiegare nessun linguaggio di programmazione, tanto meno il C-P-U dato che abbiamo detto che non è un linguaggio di programmazione tra i più semplici. L'obiettivo di queste slide è quindi quello di vedere un attimo il sintassi del linguaggio vedere un attimo come sono i suoi costrutti in modo che se nelle prossime torte su tutti vi vengono notati esempi di codici C++ voi riuscite più o meno a capire che cosa sta succedendo a seguire il filo del discorso. Inoltre se vi mettete per conto vostro alla fine di questo torte a provare a fare ad esempio i programmi in C++ oppure a fare delle interfacce grafiche in QD sapete bene o male da dove partire diciamo. Ok. Come ho già detto queste slide partono dal presupposto che si conosca il C e si fa un approccio incrementale rispetto al C ossia abbiamo mostrato side by side un esempio di codice C in molti casi un esempio di codice C++ e quello che vi abbiamo spiegato è l'aggiunta le nuove funzioni che il linguaggio C++ offre Ampio Sprash vi avremo andato ancora la lingua di programmazione oggetti proprio perché non assumerò che voi sapete già Java o comunque avete fatto il corso di ingegneria del software quello del trazzano e come abbiamo detto è un approccio differenziale ok questo è un sommario che mostra un attimo quello che vi avrà spiegato allora innanzitutto vi avrà spiegato un attimo la feature del C ossia come modularizzare un programma in più file questo perché di solito nel primo corso di programmazione al primo anno Info 1 o adesso non so come si chiama nel nuovo ordinamento questo argomento viene saltato perché non è cioè non c'è delle aggiunte concettuali come se non si tiene il cittrofo uno non può fare i programmi diciamo però per fare un programma di una certa dimensione scriverlo tutto in un unico file che ha dei problemi diciamo di gestione quindi occorre sapere modularizzare un programma in C in più file in modo che dopo avervi spiegato questo quando vi mostro la stessa cosa fatta in C++ riuscite a seguire il filo del discorso poi vengono spiegate le nuove introduzioni alla sintassi invece delle nuove estensioni che sono disponibili in C++ si parte dal semplice low word vengono mostrati gli input output stream che sono il meccanismo di input output del C++ che banalmente va a sostituire o va a complementare in realtà l'interprese canale del C vengono spiegati i namespace le stringhe un delete che è l'equivalente di malloc 3 le reference le eccezioni i template un accenno ai template alla STL riguarda con documenti molto vasti quindi è difficile spiegare di tutti in un'interruzione e poi la seconda parte di queste slide poterrà invece la programmazione obiettualiente in questo caso per chi ha già fatto il corso di ingegneria del software si vedrà una sorta di ripasso di alcuni dei concetti di base di programmazione obiettualiente e vedrà la sintassi del C++ a fare le classi per chi versi le proprie classi invece per chi è la prima volta che vede la programmazione obiettualiente vedrà entrambe le cose ok primo passo suddivisione di un programma in più file come abbiamo detto nel corso di info1 di solito l'agente dice che apre un file tipo.c ci scrive dentro il suo main le sue funzioni le sue time depth e basta questo approccio funziona fin tanto che i programmi sono semplici intanto che scrivete un migliaio di ricchi di codice mettiamo non avete molti problemi a farci restare tutti in un solo file però se avete dei programmi grossi e in genere nel mondo del software i programmi possono diventare anche molto grossi perché non è che hanno il linux o il combinatore di cc scrivere tutto in un unico file che ha dei problemi innanzitutto problemi di comprensione perché se avete un file che è grosso 100.000 righe di codice se dovete saltare da una funzione all'altra non è che potete prendere la scroll di lato del vostro editor di testo e andare a cercare tra le 100.000 righe di codice le vostre funzioni anche control f non è che non è che in ultimo in questo caso quello che succede è che un programma di grosse dimensioni di solito viene diviso in moduli logicamente cioè nel senso se io sto scrivendo un sistema operativo ho un modulo per gestire la memoria un modulo per gestire le periferiche un modulo per gestire i processi o qualcosa del genere quindi quello che succede è che già logicamente c'è una suddivisione in moduli del codice quello che fa implicitamente del programmatore nel suo modo di pensare questa modularizzazione è bene che si manifeste fisicamente anche nel codice ossia io scrivo in un file tutte le funzioni relative ad un modulo e dopodiché chiamo queste funzioni da un altro modulo del mio programma ok inoltre dividere un progetto in più file riduce l'occupazione di memoria del combinatore nel senso che quando io parto da un file e lo compilo il combinatore mentre me lo sta compilando mi sta occupando una certa quantità di RAM di solito questa quantità di RAM cresce non linearmente con la dimensione del programma cresce più che linearmente quindi significa che se prendete un esempio il compilatore di cc che è a sua volta scritto in c e se fosse scritto tutto in un solo file io ho provato nel senso a compilarlo quando uno lo prende è un termine z lo estrae dopo averlo estratto sono 500 megabyte di soli file sorgenti se tutti questi 500 megabyte si trovassero in un solo file probabilmente ci vorranno che so 64 gigabyte di RAM il compilatore per compilarlo o qualcosa del genere invece se come infatti succede un programma così complesso ed è diviso in tanti file quello che succede è che il compilatore compila prima un file e quindi occupa un tot di memoria poi il compilatore termina e viene eseguito una nuova istanza del compilatore per compilare il secondo file e via dicendo e l'occupazione di memoria nel tempo non supera mai un tot dato dalla dimensione del file più complesso diciamo ok inoltre dividere un progetto in file semplifica anche la scrittura di codice da parte di due persone fin tanto che un programma è semplice di solito viene scritto da una sola persona o comunque è possibile che sia scritto da una sola persona quando un programma diventa di complessità enorme se ci si mettesse una sola persona a scriverlo finirebbe tra vent'anni quindi di solito i programmi specie quelli complessi vengono scritti da più persone contemporaneamente dividere un programma in file è un modo semplice per dividere comunque anche i task tra le persone e nel caso in cui si utilizzi un sistema di version control tipo vita o qualcosa del genere che consente di gestire i contributi di più programmatori su di una stessa base di codice è più facile evitare che ci siano conflitti perché se tutto sta in un solo file e un programmatore sta scrivendo una funzione un altro programmatore sta scrivendo una funzione poi uno fa un commit in un sistema di version control poi l'altro tenta di fare il commit si trova che il file è stato modificato da quello di prima e quindi deve gestire il conflitto a mano di solito nei sistemi di version control se ci sono conflitti nello stesso file o comunque se sono conflitti complessi cioè sono state modificate troppe miglie di codice e la risoluzione del conflitto viene fatta a mano se invece sono sulle file diversi non c'è un problema ok fin qui le motivazioni ma come si fa a scrivere un programma in C diviso in due file allora innanzitutto compariono due tipi di file i file.c e i file.h finora siete stati abituati a scrivere solamente dei file.c cioè scrivete il vostro main.c che contiene la funzione main che contiene tutte le vostre altre funzioni e basta al massimo includete per le diverse di via .h per avere la printette per esempio ma i file.h di solito non li scrivete voi quando si scompone un programma in più file occorre scrivere entrambi i tipi di file i .c sono semplicemente i file sorgente e si continua a fare quello che si faceva prima cioè all'interno di un file sorgente si scrivono le funzioni sia quelle chiamabili da qualunque file sorgente del progetto quindi io scrivo una funzione in un file 1.c e dal mio main .c chiamo questa funzione che mi trovo in questo file oppure funzioni chiamabili solo all'interno dei file dichiarate static se uno dichiara una funzione come static questa funzione sarà disponibile solamente dall'interno di questo file quindi se io da un altro file chiamo un centro di chiamare del compito che mi dà di solito questa caratteristica di statica non viene scegata proprio perché non viene mostrata la programmazione dei file all'interno dei file si mettono comunque dichiarazioni di struct enum typedef ma altro che però sono utilizzabili solamente all'interno di quel file perché come dovremmo vedere le struct le enum e le typedef per essere utilizzabili da più di un file devono essere messi in un punto h in modo che se io dentro il mio punto h mi chiamo una struct e da più file c includo quel file punto h quello che succede è che quella struct è utilizzabile da tutti i file punto c che includono questo file punto h quindi se voi prendete un enum e la mettete all'interno di un file punto c automaticamente la potete usare solo qui se invece la mettete in un punto h la potete utilizzare in tutti i file che includono il punto h appunto i file punto h sono i file di tipo header e contengono i prototipi delle funzioni dopo andremo a spiegare cos'è un prototipo di funzione chiamabile da qualunque file ci argente nel progetto e come dicevo prima le richiamazioni delle struct delle enum delle type delle margin che sono chiamabili da qualunque file ci argente che includa questo punto h allora fin qui era tutto molto teorico adesso vediamo il primo esempio di codice allora questo è un programma molto semplice semplicemente un esempio che va a dare in test non è nulla di che è in c ed è diviso in tre file abbiamo un file main.c di solito per convenzione il file che contiene il main si chiama main ma in realtà non siete obbligati a farlo poi abbiamo un file test.org e poi abbiamo un file test.c quello che succede è che dentro il file test.c viene dichiarata una funzione test.funk che prende una struct come parametro e che fa printf e stampa due campi di una struct a e b ok poiché ha bisogno della printf include stdio.h e inoltre include test.h nel file test.h invece c'è la dichiarazione della struct perché come abbiamo detto una struct per essere visibile da più file deve essere messa in un punto h ma stack test contiene i suoi campi a e b compatibilmente con il fatto che la funzione test.funk acceda ad a e b della struct e inoltre contiene il prototipo della funzione test.funk il prototipo è la stessa riga iniziale della funzione quindi con il valore di ritorno e con i parametri ma al posto di esserci il corpo della funzione che inizia con una grafica e si chiude con una grafica poi c'è un punto e virgola lo scopo dei prototipi di funzione è di consentire al compilatore di controllare che sto passando i parametri giusti alle funzioni ossia il compilatore va a controllare che questa dichiarazione di test.funk nel punto h sia compatibile con la dichiarazione del punto c ossia prenda lo stesso tipo di parametro ok in tali casi prende un aspetto test e che ritorni lo stesso valore in questo caso vabbè ritorna void ma va anche a controllare che nel mail quando chiamo la funzione test.funk gli passo un parametro che sia compatibile con il tipo ossia gli devo passare una struct di tipo t ok dopodiché nel file main.c come abbiamo detto chiamo questa funzione test.funk come faccio a chiamare questa funzione innanzitutto devi includere test.funk in questo modo il compilatore conosce che esiste una funzione test.funk conosce che questa funzione prende una struct test come parametro e conosce anche la struct test perché si trova in test.funk una volta che ho messo la include notate che rispetto a stdio.h che ha le parentesi angolari test.funk ha i doppi apici i doppi apici si mettono per indicare il compilatore di cercare il .h nella stessa cartella dove ci sono i sorgenti mentre le parentesi angolari di cercare nelle cartelle di sistema spdio.h è un include della libreria standard del C si trova nella cartella di sistema e quindi ha le parentesi angolari invece test.h questi tre file si troveranno tutti nella stessa cartella e quindi abbiamo i doppi apici una volta che ho messo include test.h posso creare istanze dell'estracto che sono definite del .h quindi nel main mi creo un'istanza per fare il test posso accedere ai campi e il compilatore mi controlla che la strata abbia veramente dei campi che si chiamano a.d come fa? poiché io ho include test.h conosce come è fatta la strata e quindi può fare il controllo e sempre per include test.h posso chiamare le funzioni che sono nel .h questo è il modo diciamo di modularizzare un programma C idealmente in un programma C avrete n più 1 fa il C ed n fa il .h il main ovviamente non ha un main .h perché normalmente contiene solamente il main e il main chiama funzione ok come si compila un programma del genere nel corso di info 1 probabilmente vi sarà stato spiegato di utilizzare il comando gcc che sarebbe il compilatore C per compilare un programma di solito vi si spiega solamente gcc test.c che genera un file a.out o magari gcc test.c meno o test dove l'opzione meno o serve a generare un file di nome test che poi potete lanciare come si compila un programma invece è diviso in più file bisogna chiamare una volta il compilatore per ogni file C presente nel programma nel progetto ok quindi qua abbiamo due file C main.c e test.c si compila con gcc meno 2 meno C test main.c e meno 2 meno C test.c ok il meno C è un'opzione che dice al compilatore di non generare direttamente un binario perché normalmente se io ripassassi il C main.c non mi viene combinabile direttamente invece viene un file oggetto un file .o ok che poi viene utilizzato l'ultima fase c'è la fase di linking in cui tutti i file .o vengono uniti per ottenere un solo programma eleguibile l'opzione meno 2 invece ha a che fare con le performance attiva le ottimizzazioni del compilatore che è un'altra cosa che di solito non si spiega ai corsi di informatica che è un po' un problema perché in realtà se compilate senza passare di no 2 il compilatore non ottimile quindi il codice va più lento di quello che uno vorrebbe una volta eseguiti questi due comandi abbiamo e l'ultima fase è la fase di linking che viene fatta sempre chiamando gtc meno rohprog che sarebbe il nome del programma che viene eseguito e gli si passano i due .o generati prima ok ed è così che alla fine il compilatore risparmia memoria perché quando compilo il primo file il compilatore ne vede solo uno quando compilo il secondo file il compilatore ne vede solo l'altro quando linko invece vedo i file già precompilati in realtà e ne lo spiego solo l'unico e ne vede solo l'unico ok finora abbiamo visto la programmazione 5 in quest'ultimo dettaglio che probabilmente qualcuno di voi non conosceva come modalizzare un programma in due file adesso iniziamo ad introdurre il cppu come al solito il cppu lo introduco con l'ello word che è il programma più semplice non lo può pensare allora qui viene mostrato side by side lo stesso esempio in c e lo stesso esempio in cppu un file c ha estensione .c un file cppu ha estensione .cpp in realtà potrete vedere anche altre estensioni però in realtà quella più comune è .cpp allora in c mettete include stdio.h per avere la 20f in cppu si mette include io stream per avere la cout che è la equivalente della 20f in cppu avete una cosa in più che sono i namespace che verranno spiegati dopo però adesso sappiate che è necessario mettere usi namespace sfd per utilizzare il namespace standard in entrambi i casi in modo molto simile al c abbiamo una funzione il main ok questa funzione ha una sola vita di codice nell'equivalente c abbiamo printable lo word backslashm che va a capo invece qui abbiamo cout l'operatore si chiama operatore di stream insert nel senso prende una stringa e lo inserisce in uno stream e quindi quel cout è sempre lo string della console esattamente come printable scrive sulla console l'altro di questo programma è quello di scrivere all'interno di un terminale hello word handle sarebbe endline è l'equivalente dell'extreme del c quindi va a capo come si compila va bene esempio in c come abbiamo detto essendo composto da un solo file facciamo gcc meno 2 per avere le performance example.c meno example.c potete chiamarlo programma questo è il nome del binario che vi darà generato ok per compilare un programma c++ invece c'è g++ che fa sempre parte del progetto gcc ok però serve compilatore c++ meno 2 sempre per le performance example.cpp perché il file si chiama example.cpp e meno non viene il programma ok l'altra cosa che è interessante notare è che poiché c++ abbiamo detto che è compatibile con il c il contenuto del file example.c è anche codice c++ validi ossia se voi prendete il file questo file qua example.c lo rinominate example.cpp e lo compilate col compilatore gpp funziona questo significa che anche il gpp potete utilizzare la contetta se volete solamente che i stream come dopo andremo ad accennare sono più flessibili diciamo ok iniziamo passo passo a vedere tutte i nuovi tutte le novità diciamo del linguaggio quindi cout i namespace una per una a vedere cosa sono cosa fanno ok come ho detto il linguaggio si più più introduce il concetto di stream che è un'astrazione di un device su cui si può scrivere oppure da cui si può leggere il concetto di stream è un modo per unificare un certo numero di operazioni che capitano spesso in un programma quindi la lettura e la scrittura dalla console si scrive con cout come abbiamo visto prima cout e la word si legge da cin che sono un'alternativa a printf scanf del c ma come ho detto se volete anche in un programma si più potete utilizzare printf scanf i file if stream ed off stream sono if stream è un file da cui voglio leggere input file stream off stream output file stream è un file dove voglio scrivere e sostituisce la f open f close del c la memoria anche la memoria può essere vista con uno stream per effettuare le operazioni su delle stringhe per esempio conoscerete molto probabilmente la sprintf e la s scanf del c che consentono di prendere una stringa prendere un intero e scrivere l'intero all'interno di una stringa questo si può fare in c++ sempre utilizzando il concetto di stream utilizzando lo stream stream ok quindi l'utilizzo degli stream è per scrivere in uno stream delle stringhe interi float si utilizza l'operatore stream insert l'operatore stream insert sono praticamente due maggiori scritti uno dopo l'altro ok l'esempio prima ce l'avete qua avete cout e lo word prende il contenuto di lo word e lo mette all'interno della stream per andare a capo abbiamo detto si usa end per leggere interi florto qualcosa si utilizza l'operatore stream extract che è esattamente uguale allo stream insert ma divato dall'altro lato e si scrive praticamente con due maggiori messi dopo ma gli altri erano due minuti scusate invece per leggere una linea di testo si utilizza una funzione che è la funzione di line adesso vediamo un esempio dove vengono utilizzati questi operatori allora qui abbiamo una include ospame sempre using main space sdb sempre poi abbiamo un main dove richiediamo un intero un float e una string cin come abbiamo detto è la console in ingresso equivalente di scanette come potete vedere si può concatenare più di una variabile per leggere più di una variabile in questo caso cin in f significa che quando lanciate il programma questo parte con una console rimane lì in attesa che digitate prima un intero poi digitate un invio oppure uno spazio poi digitate un float e poi digitate invio una volta che avete digitato entrambi i numeri e avete digitato invio il programma continua get line invece è una funzione che prende da uno stringo o una riga il testo intero fino al ritorno al caso e lo memorizza in una stringa quindi qui abbiamo una stringa S per line cin S ferma il programma in attesa che io digito del testo e poi prende invio mentre cout come abbiamo visto prima consente di scrivere sulla console o delle stringhe statiche oppure anche direttamente delle variabili come nel caso di cin si può concatenare il numero di volte che si vuole l'operatore di stream insert in modo da poter stampare più dati uno di circa all'altro l'endline non è neanche detto che debba essere latino se dopo l'endline posso andare avanti con un altro operatore di stream insert e inserire un altro dato diciamo contrariamente a C il tipo di dato non viene specificato e il complicatore lo capisce da solo diciamo cioè se io faccio cout i e d un intero me lo stampa come intero se io faccio cout f ed f è un float me lo stampa di default con sei cifre decimali se io stampo una stringa me lo stampa come stringa semplicemente c'è nel senso una stringa viene stampata a schermo invece in C bisogna specificare per esempio il percento di verdi interi il percento f per i float il percento s per le stringhe in una forma di stringhe diciamo invece quindi si mettono uno dopo l'altro con l'operatore stream insert i numeri e le variabili queste sono stampate in automatico ok il primo passo è uno di stream adesso il link space abbiamo visto nei programmi prima che c'era using namespace std cos'è? questo è using namespace std allora i namespace servono a risolvere il problema dei conflitti dei nomi quando si va in un programma rosso è possibile che due moduli diversi dichiarino una funzione che ha lo stesso nome che ha gli stessi parametri o qualcosa del genere in un programma in C quando si arriva a compilare il programma il compilatore dice questo non va bene perché ha dichiarato due volte la funzione con lo stesso nome ok in C++ invece è possibile avere più funzioni con lo stesso nome e con lo stesso numero di parametri perché si trovino in due namespace diversi un namespace si dichiara semplicemente un namespace si dichiara con namespace un nome del namespace aperta la gaffa all'interno si può mettere quello che si vuole poi si chiude la gaffa all'interno di un namespace appunto si può mettere quello che si vuole ossia dichiarazione di funzioni classi e non type depth ok invece per accedere ad un elemento in un namespace occorre aggiungere il prefisso che è il nome del namespace e poi due punti due punti quindi se torniamo indietro qui dentro il namespace nam1 ho dentro la funzione f nel main faccio nam1 due punti due punti f e questo mi chiama la funzione f che si trova nel namespace nam1 ossia questa mentre se chiamo nam2 due punti due punti f questo mi chiama la funzione f che si trova nell'altro namespace ok l'altra alternativa è aggiungere al file corrente un using namespace e il nome del namespace a questo punto si possono chiamare le funzioni di un namespace direttamente senza metterci il prefisso nome del namespace due punti due punti le funzioni e le classi della libreria standard si trovano nel namespace std ed è quindi per questo che se troviamo in ovo su abbiamo un using namespace std e poi utilizziamo cin e cout in realtà cin e cout sono nel namespace std quindi se io non metto using namespace std dovrei mettere std due punti cin e il codice funzionerà per lo stesso per brevità di solito si può utilizzare un using namespace std per dire in utilizzo il namespace standard e quindi posso usare direttamente cin e cout senza metterci std due punti punti ogni volta è considerata però cattiva pratica di programmazione mettere un using namespace in un punto h questo perché se come avete visto un attimo fa quando si scompone un programma lo si scompone in più in un più file anche in c++ è così esattamente come in c se io metto dentro un punto h using namespace std succede che in tutti i file in cui andrò ad includere questo punto h mi becco anche il using namespace std e alcuni programmatori non vogliono avere un using namespace std perché vogliono poter dichiarare una loro funzione ad esempio che si chiama cin e a questo punto il codice non funzionerà più perché se uno mette un using namespace il compilatore non sa più quale delle due funzioni se io se noi prendiamo l'esempio qui qua non potrei utilizzare un using namespace da muro perché ho due funzioni che hanno lo stesso nome ok quindi bisogna stare meglio di utilizzare il using namespace in genere i programmatori non ridanno lo stesso nome delle funzioni del namespace std e quindi si può utilizzarlo però non è detto e quindi è meglio non mettere il using namespace std nel punto h o qualunque altro esegno in generale ok questi sono i namespace adesso passiamo alle tre nell'esempio prima avevamo visto come si utilizza la get line per leggere una stringa forse non ci avrete fatto a caso però per dichiarare una stringa in c++ chiusa string quindi c'è un tipo dati stringa in c in realtà il tipo dati stringa non esiste cioè nel senso la stringa viene emulata come un vettore di carattere infatti questo è un esempio di programma che fa delle semplici ma di imporazione sulle stringhe in c include scotterio.h include string.h dichiarare due stringhe ma in realtà sono due vettore di 1024 carattere dopodiché fa una string copy in a yellow poi fa una string cut quindi con catena al contenuto precedente della string a una nuova string a word poi fa una string copy di a in b quindi mette yellow word che era il contenuto di a in b e poi stampa a b questo è un programma scritto in modo stupido per mostrare degli esempi di manipolazioni delle stringhe in c l'equivalente manipolazione delle stringhe in c invece si fa così allora le stringhe si dichiamano come string quindi abbiamo string a b l'assegnamento delle stringhe si fa semplicemente con l'operatore uguale se voi in c dovete segnarvi il valore 5 ad un intero ad una variabile intera di tipo i fate i uguale a 5 se invece non dovete fare con le stringhe in c dovete fare string copy a yellow word in c++ invece si può riprendere per utilizzare l'operatore uguale anche per le stringhe per fare il concatenamento invece si utilizza l'operatore più o più uguale se voi fate a più b e a e b sono stringhe viene preso il contenuto della stringa a viene concatenato la stringa b e il risultato viene messo per esempio nella stringa c così come in c esiste il più uguale che è un modo per abbreviare il codice se voi fate a più uguale b sarebbe l'equivalente di a uguale a più b ok quindi significa che se lo fate con le stringhe a più uguale word prende il contenuto precedente di a c concatenata word e il risultato di questo concatenamento viene messo in a sarebbe la stessa cosa scrivere a uguale a più word in entrambi i casi funzioni più concatenano le stringhe di nuovo l'assegnamento delle stringhe si fa con l'operatore uguale quindi se io devo passare il contenuto di una stringa a in una stringa b lo faccio con b uguale ad a semplicemente e poi come abbiamo detto per stampare le stringhe si fa c out a in line invece dico in testa per 100 s ok l'altra caratteristica che c'è intuito più o meno c'è in c o almeno non nativamente è il fatto che le stringhe si ridimensionano automaticamente per contedere il numero giusto di caratteri quindi se in questo programma un c dichiaro char a 1024 poi devo ricordarvi che non posso metterci dentro stringhe più lunghe di 1023 caratteri l'ultimo carattere sarebbe il textless zero che viene utilizzato come per provvedere stringhe invece in c++ posso fare le operazioni sulle stringhe senza dovermi preoccupare della loro dimensione perché se faccio il concatenamento la classe stringa perché dopo andremo a vedere che stringhe è una classe in realtà fa un'allocazione di memoria di abbastanza per contenere la stringhe completa ok le stringhe in c++ sono delle classi non sono dei tipi base come l'interprote le classi sono il patrullino base della programma che non vediamo la seconda parte del slide ma quello che è importante sapere è che poiché manca poco allora poiché le classi sono nel senso poiché io come programmatore posso dichiarare le mie classi posso dichiarare anche altre classi che si comportano come delle stringhe quindi in c++ non esiste un solo tipo di stringhe intanto perché esistono i vettori di carattere perché c++ è compatibile con c se volete potete possibilità di utilizzare i vettori di carattere anche se è più scomodo ovviamente perché non si ridimensionano automaticamente inoltre è possibile come programmatore che io possa dichiarare le mie stringhe questo di solito non succede però come andremo a vedere dopo nel framework qt ha le sue stringhe che si chiamano qstring che sono delle stringhe che rispetto a quelle standard supportano unicode ossia contengono dei caratteri che non sono del formato asci o qualcosa del genere ma supportano anche dei caratteri ideogrammi cinesi ad esempio che servono molto quando si fanno interpacce grapiche perché se uno vuole fare un interpaccia grapica che sia usabile anche da un cinese bisogna che compaiano gli ideogrammi diciamo quindi internamente o come questo in inter di contenere anche questi caratteri particolari ok new delete allora in c si utilizza la malloc per allotare memoria e la fee per allotarla in c++ esiste lo stesso concetto solamente che si fa con new per allotarla e con delete per allotarla l'esempio in c abbiamo un puntatore intero si fa una malloc sizeof int perché la malloc prende come parametro il numero di byte da allocare e quindi per non stargli a ricordarsi quanti byte compongono l'intero si fa sizeof int poi alla fine si vuole un cast perché la malloc ritorna un puntatore avoid e qua c'è un puntatore intero e si vuole un cast la deallocazione si fa con free del puntatore che invece devo allocare un array di 10 interi faccio malloc 10 per se stop int quindi allocare una quantità di byte parli a 10 volte la dimensione del numero intero e a questo punto b la posso utilizzare come un vettore in c++ c'è la stessa cosa allora abbiamo un puntatore int asterisco a uguale new int in questo caso non ci sono le parentesi perché new è un operatore che fa parte del linguaggio e non devo specificare la dimensione dell'intero devo specificare sulla mente io faccio new int e il compilatore sa quanto è grazie un int ci pensa lui per deallocare questa memoria devo fare delete il puntatore invece per allocare un vettore faccio new int parentesi grappe 10 per indicare 10 per indicare che voglio un vettore di 10 interi mentre per deallocarlo devo ricordarmi di mettere questa sintassi con le parentesi di grappe a parte chiuse che dice al combinatore che sto deallocando un vettore e non un solo elemento ok è solo una differenza di sintassi reference in c gli argomenti vengono passate le funzioni per copia quindi significa che se devo passare un parametro ad una funzione e voglio che questa funzione mi modifichi il parametro ossia quando mi torno dalla funzione base che è stato modificato lo devo passare per appuntatore mettiamo che abbiamo questa funzione che incrementa e che incrementa il parametro in c devo passare appunto per appuntatore perché se lo passassi come int intero questo dovrebbe essere passato una copia e quindi nel main la variabile non sarebbe incrementata quando chiamo una funzione del genere devo ricordarmi di mettere l'e-commerciale perché devo prendere l'indirizzo lì ok mentre quando se non metto la funzione devo utilizzare l'asterisco per referenziare il puntatore prima di incrementarlo e devo anche ricordarmi di mettere le parentesi perché la precedenza del più operatori fa sì che se mi dimentico questo questo mi incrementa il puntatore e non il valore puntato diciamo ok in c++ esiste il vero pass by reference ossia io faccio una funzione che prende come parametro un int e commerciale intero int e commerciale sarebbe il tipo dati reference quindi questa funzione gli si passa una reference intero quello che succede è che viene fatto appunto il passaggio per riferimento quindi io faccio incrementa i non serve mettere le commerciale le passo direttamente l'intero e da dentro faccio intero più più e questo mi incrementa l'intero però la modifica rimane visibile anche dopo quindi in questo caso i è 0 faccio incrementa i dopo aver eseguito questa funzione i diventa 1 e quindi c'è aut diventa 1 solamente che la sintassi è più pulita diciamo ok le reference sono utilizzabili anche a difuomi dei parameter di una funzione quindi io posso dichiarare all'interno di un mio programma una reference in qualunque momento quindi int e commerciale j uguale a i dichiaro una reference a questa variabile e la chiamo gray ok e qua faccio cout di j e questo mi stampa 0 perché i è 0 poi faccio i uguale a 0 quindi io modifico e poi lo vedo della variabile i ma poiché la reference si riferisce alla variabile i quando faccio cout j questo mi stampa 10 perché si riferisce alla variabile quindi prende il valore giusto che è l'ultimo che è stato assegnato diciamo le differenze tra una rete e un solo puntatore in c++ continuano ad esistere i puntatori in più ci sono anche le reference è che le reference si possono inizializzare solo al momento in cui vengono dichiarate ossia quando faccio int e commerciale j devo dire direttamente a cosa si riferisce non posso fare int e commerciale j uguale a puntedì e poi inizializzarli in qualunque altro momento come posso fare i due puntatori ok quindi una volta che l'ho inizializzato non posso farlo puntare a nessun altro oggetto una volta che ho inizializzato il puntatore ad una variabile posso re-inizializzare il puntatore e farlo puntare ad una variabile ad esempio con le reference invece una reference punta sempre a quella variabile e poiché quando inizializza una reference deve puntare per forza ad una variabile valida non esistono reference null quindi una reference è sempre valida questo è anche comodo perché se torniamo ad esempio in prima qui si passa un puntatore in teoria questa funzione dovrebbe controllare che il puntatore non sia null perché qualcuno potrebbe trollare questa funzione passando di un puntatore null e questo deve fare insieme a null che ci farà un crash del programma invece questo non può succedere nell'esempio in C++ perché una reference deve puntare sempre a qualcosa di valido eccezioni ic non ha i costruti del linguaggio specifici per gestire gli errori di solito quindi una funzione per gestire una condizione di errore ritorna un codice di errore che nel senso se voi fate una funzione che ritorna un intero e mettete che ritorna 0 quando va tutto bene e ritorna meno 1 quando qualcosa è andato storto ad esempio questo viene fatto anche dalle funzioni libri a standard un altro esempio di funzione che ritorna un codice di errore è la malloc vi avranno insegnato l'info 1 che se malloc non riesce ad allocare la memoria ritorna null quindi si dice che voi dopo aver fatto la malloc dovreste cercare sempre che malloc che il valore di ritorno non sia null e nel caso scappare un messaggio di errore e terminare il programma però è facile dimenticarsene spesso quando uno è di fretta e sta scrivendo nel codice e questo appunto questo è un problema un altro esempio è printf ritorna un numero negativo in caso di errore ma c'è qualcuno che controlla veramente dopo aver fatto ogni printf che il codice ritorne che non ritorne un numero negativo di solito no nella maggior parte dei programmi che andate a vedere è fatto printf e basta nel caso in cui c'è un errore l'errore viene ignorato perché viene fatto questo perché se effettivamente un programmatore vuole mettersi di impegno e controllare tutti i codici di errore sarebbe costretto scrivere molte più righe di codice rispetto ad un programma che non fa il check di ogni singolo errore diciamo per risolvere questo problema in cpp esiste un costrutto che sono le eccezioni che consentono di separare la parte del codice che tratta il caso in cui va tutto bene da quella in cui c'è un errore adesso andiamo a vedere un esempio questo è un pochino più lungo che utilizza le eccezioni allora qui abbiamo un esempio di gestione degli errori in c abbiamo una funzione g che prende un intero e ritorna un intero ok questa funzione è una tabella dei tre valori e ritorna prende l'indice i prende il parametro i come un indice per sentire quale dei tre valori vi trattare se gli viene passato un valore che non è compreso tra 0 e 2 ritorna meno 1 come codice di a valore nell'altro caso invece ritorna il valore cioè nel senso 1 dei tre a seconda del parametro i il parametro i viene preso come un indice come f poi abbiamo una funzione f che prende l'intero e ritorna l'intero che prima di tutto fa resalto uguale g di quindi chiama la funzione g e poi deve controllare se il risultato è migliore di 0 o minore di 0 perché se è minore di 0 è un codice di errore e in questo caso propaga il codice di errore c'è nel senso in caso di errore nel caso in cui il risultato sia minore di 0 ritorna anche lei un numero minore di 0 per indicare che è stato un errore nel caso in cui invece il risultato è proprio di 0 stappa i risultati e poi ritorna 0 per dire che va tutto bene nel main viene fatta una scanette quindi si chiede all'utente di inserire un numero e poi viene chiamata FDI anche qui occorre fare controllo degli errori nel caso in cui FDI ritorna un numero negativo stampa errore e nel frattempo in questo caso quindi se si vuole controllare l'errore sono più le righe di codice relative alla gestione degli errori che tutto diciamo l'equivalente invece di C++ in caso di le eccezioni si fa utilizzando due nuovi costrutti uno il throw e poi il blocco try catch che abbiamo qua allora qui abbiamo la funzione G che fa esattamente la stessa cosa di prima solamente che nel caso in cui l'indice sta fuori dai bound di questa array invece di ritornare un codice di errore fa una draw di un tipo array in generale che contiene una stringa index out of bounds quindi oltre a poter lanciare una condizione di errore si può anche dare delle informazioni riguardo all'errore sotto forma di stringa che di solito è comodo perché è comodo perché comunque si danno delle informazioni più significative nella funzione F non è più necessario fare nessun controllo dell'errore ossia viene chiamata direttamente G nel caso in cui la funzione ritorna non succede niente ossia il valore di ritorno G viene stampato come risultato nella Cout nel caso in cui succede un errore la draw fa sì che questa funzione ritorni con un'eccezione e anche se non c'è un esplicito controllo qua dell'errore il fatto che questa funzione chiamata ritorna con un'eccezione fa sì che anche questa funzione chiamata ritorni con un'eccezione perché perché non c'è un blocco tra i catch quindi un'eccezione è un qualcosa che si propaga di funzione in funzione fino a quando non trova un blocco tra i catch ok nel main abbiamo invece un blocco tra i catch dove abbiamo a try i cini che è l'equivalente di scanette e poi chiamano la funzione F nel caso in cui la funzione F non ritorna con un'eccezione a questo punto il main ritorna il contenuto del blocco catch non viene mai eseguito nel caso in cui invece qualunque istruzione all'interno del blocco try ritorna con un'eccezione in questo caso F si passa al blocco catch il blocco catch in questo caso viene eseguito appunto il contenuto del blocco catch viene presa l'eccezione qua c'è un errore questo dovrebbe essere di exception ok e viene stampato e punto what e sarebbe l'eccezione a un metodo dopo andiamo a vedere la programmazione e scopriamo che cos'è un metodo che praticamente era stato estampato l'astronica qui sopra quindi questo è un modo per gestire gli errori senza dover andare a controllare i codici di errore ad ogni singola funzione ok passiamo a una brevissima introduzione ai template allora i template sono la feature di C2 più che consente la programmazione come abbiamo detto abbiamo tre paradigmi di programmazione procedurale come prima infatti come avete visto in questi esempi si dichiarano funzioni come si faceva in C programmazione oggetti lo andiamo a vedere per un attimo e metaprogrammativo con i template è possibile scrivere codice sia funzioni che classe parametriche in uno o più tipi di dato e queste funzioni o queste classi possono essere istanziate quando vengono usate con un tipo di dato concreto questo può sembrare un po' difficile all'inizio perché non siete abituati alla metaprogrammazione ma vediamo un esempio per spiegare un attimo che cosa succede io posso dichiarare una funzione template max ok che si può allora iniziamo a dire template template abbiamo detto che il concetto si scrive un codice parametriche in uno o più tipi questo è un tipo t ok template type questa funzione che si chiama max è parametrica nel tipo t abbiamo che questa funzione ritorna un bull e prende come parametri a e b e a e b si sono di tipo t e t è un parametro poi dentro fa se a è maggiore di b ritorna a altrimenti ritorna b la solita funzione massimo che ritorna al massimo tra due valori ok qui dentro abbiamo due int nel main x e y e ritorna al massimo tra i due interi a questo punto il compilatore mi genera una funzione max dove t è intero perché? perché ho chiamato almeno una volta nel mio programma una funzione max passando ai due interi invece qua ho due float v e u doppia e di nuovo chiamo max il compilatore a questo punto mi genera una nuova funzione max dove però questa volta t è float ok in questo senso si parla di metaprogrammazione ossia io non scrivo funzioni ma io do al compilatore una ricetta per generarmi delle funzioni automaticamente quando ne ho bisogno parametro che è dei tipi ok come si può intuire dalle onde i template sono uno degli argomenti più complessi del linguaggio c++ e ho consentito di rigenerare codice molto ottimizzato e anche codice molto di alto livello nel prossimo esempio mostreremo un esempio di codice in cui si vede l'utilizzo dei template e si capisce perché sono così inutili nel loro formaggio generale e questa è la metaprogrammazione i template rappresentano un linguaggio a sé stante sono tumi incompleti nel senso che è possibile risolvere qualunque problema risolvibile con una macchina di turning utilizzando solo i template che viene interpretato dal compilatore c++ e il cui altro è ancora a sua volta codice c++ ossia consentono di scrivere del codice paramedico e tentivi che viene interpretato dal compilatore e il compilatore mi genera del codice e delle funzioni e delle classi in automatico ed è un modo che si può anche intuire per risparmiare i miei codici invece di dover richiare una funzione max per i float una funzione max per i double io scrivo una sola funzione e lascio che il compilatore me le generi è slid passiamo all'introduzione alla STL la STL è lo standard del plate library è una libreria che fa parte dello standard c++ che contiene contenitori algoritmi e iteratori questo è quello che evita di reinventare la ruota riscrivendovi ogni volta le vostre liste appunto trovi in C o qualcosa del genere come abbiamo detto è una libreria template quindi avrete la lista template che potete fare una lista di iter potete fare una lista di stringhe se vi siete fatti la nostra strata potete fare una lista della vostra strata ok e quindi abbiamo i contenitori strutture dati comunemente utilizzate abbiamo letto le liste vettori dimensioni dinamiche stable poi abbiamo gli algoritmi una volta che abbiamo tutte queste strutture dati possiamo fare per esempio un sorting e sono già preimplementati senza dover implementare l'ordinamento iteratori invece sono dei modi per iterare tra gli elementi dei contenitori ossia scrivere l'equivalente di un ciclo che fa passare tutti gli elementi di questi contenitori e sono anche un modo utilizzato dagli algoritmi per scrivere una volta solo all'algoritmo e applicarlo a diversi tipi di contenitori diciamo questi sono i tre portamenti in base della sdl allora questo è un esempio che fa qualcosa di pratico pratico forse un po' leggerato prende un file e stampa il contrario ossia se voi prendete un file che è a 10 riga vi genera in output la decima riga poi la nona poi l'ottava e così fino alla prima allora quello che viene fatto vabbè un po' di controlli sullo standard viene creato un ifstream che appunto abbiamo detto che è un file lo si chiama if e ci passa con il parametro anche over 1 che sarebbe i parametri passati al programma quando lo eseguite si controlla se il file è stato aperto oppure se il file non esiste a questo punto si fa un vetore di string ed è qui che si utilizza la stl io ho un vetore una struttura dati dove posso continuamente aggiungere valori si ridimensiona automaticamente per contenerli ed è parametrica nel tipo quindi io potrei fare un vettore di intere un vettore di string o qualunque cosa anche nel mio estratto del mio classico nel senso e si prende una string line e si utilizza get line utilizzando in che è lo string di file per leggere riga per riga il file quindi questo ciclo tra l'altro get line ritorna anche true forse a seconda che ci siano ancora dati nel file o meno quindi qui ho utilizzato un'ottimizzazione per scrivere tutto in una sola riga di codice il file termina quando il file è finito e fin tanto che il file non è finito comunque fa v che è il vettore punto pushback che è un operatore che consente di aggiungere in coda al vettore un nuovo elemento in automatico dopodiché qua cicla sul vettore v punto science ritorna il numero di elementi che ci sono dentro del vettore e cicla al contrario ovviamente perché abbiamo detto come andiamo a stappare il file al contrario e B di aperte le quadre I è un modo per rascendere un singolo elemento del vettore come succede in una rete C ok come abbiamo detto con un elemento in una rete C un vettore non ha una dimensione passissata ma si intervisce automaticamente ok passiamo alla seconda parte di questa introduzione che è la programmazione objectory oriented allora più volte in questa slide si è parlata di classi senza spiegarne che cosa sono esattamente allora le classi sono la base di un altro paradigma di programmazione che è quell'object oriented come abbiamo detto il C si basa sul paradigma procedurale ossia si scompone un programma complesso in tante piccole funzioni che si chiamano l'un l'altro in modo da adottare un appoggio stile di desimpera cioè nel senso non so risolvere il problema nel suo complesso o comunque il codice sarebbe troppo brutto inguardabile quindi inizio a risolvere questo piccolo problemino poi faccio un'altra funzione che avendo la funzione che ho fatto prima risolvo un altro pezzo del problema e poi pian piano in un gioco di scatole cinese risolvo anche il problema grosso nella programmazione objectory invece abbiamo un appartizionamento della logica dentro gamma in classi ok cosa sono le classi una classe è un abstract data type un'unità base sempre lo sviluppo del software composto sia da dati che da metodi in una funzione voi avete il codice cioè la logica del vostro programma che opera sui dati e i dati che li passate come parametri ok quindi significa che da una qualche parte avete le vostre extracto i vostri vettori con i vostri dati dall'altra invece avete le vostre funzioni a cui si passano le vostre extract e a questo punto queste extracto operano sui dati il problema è che se io ho le extract separate dalle funzioni quando un progetto è grosso posso andare a modificare direttamente i campi della extract anzi senza passare per le funzioni e magari se lo fa un programmatore che si sta avvicinando adesso a questo grosso progetto software e non sa bene cosa fa questa extract può fare casini ok se invece io accedo i dati solamente tramite delle funzioni quello che succede è che posso garantire che i dati rimangano consistenti ad esempio ok quindi la differenza rispetto alla programmazione procedurale è che i dati e i metodi fanno parte di un'unica unità la classe invece di essere separati tra le funzioni inoltre abbiamo appunto il concetto di incapsolamento i dati di una classe sono accessibili solo tramite i metodi in questo modo posso garantire che rimangano consistenti inoltre abbiamo dei concetti che sono le ereditarietà e poi il linguattismo che consentono di specializzare in modo di incrementare i dati ossia io ho un concetto generale e uso una classe per rappresentarlo poi ho bisogno di un concetto più specifico e utilizzo le ereditarietà per non dover incollare il codice del tipo generale in quello specifico ok è un modo per fare l'uso del codice essenzialmente è questo ok in questa breve introduzione le classi verranno presentate con un approccio incrementale rispetto all'extract perché assumo che conosciate l'extract del C e quindi sono una cosa più vicina di una classe che conoscete allora per per mostrare come si passa da un extract ad una classe partireò da un esempio di una definizione che necessita di un buffer circolare l'interi cos'è un buffer circolare? è una first input out io aggiungo elementi ad un buffer circolare e poi li posso prelevare nell'ordine in cui li ho inseriti essenzialmente ok una possibilità di implementazione in C è questa in questo caso mostro già il modulo senza il main che lo chiamo quindi abbiamo un tu.h e un tu.c non mostro il main.c che lo chiama e questo è un modulo cioè un altro vantaggio diciamo del modularizzare un programma in più fare il perché si può mostrare il codice che fa un'operazione indipendentemente da chi la usare diciamo allora qui abbiamo un tu.h abbiamo quattro funzioni init put get e done è abbastanza intuitivo nel senso che come abbiamo strutturato il problema dobbiamo inizializzare questo buffer circolare specificando un buffer da quanti elementi mettiamo un buffer da 10 interi poi abbiamo put ok put che prende value e lo farà mettere nel buffer circolare e ritorna int il solito codice di error poi abbiamo get che prende un elemento dal buffer circolare e lo restituisce poiché il valore di ritorno è sempre il codice di errore lo restituisce nel primo parametro e poiché i parametri che sono passati a coppia lo deve restituire per il puntatore mentre done serve una volta che ho finito di utilizzare il mio buffer circolare ma vediamo con la memoria se andiamo a vedere l'implementazione abbiamo un puntatore in data che abbiamo utilizzato per il vettore che sta sotto al buffer circolare max size size put pause e get pause allora nel limit mi viene passata la dimensione quindi io faccio data uguale malloc length per set allo con un certo numero di interi a latine il mio buffer circolare lo ottenerò con una merci max size uguale length ossia mi salvo in una variabile globale qui dentro max size quante grosse il mio buffer e inizializzo questi due campi put pause expose e size a zero quando faccio put innanzitutto controllo se size è uguale max size perché se ho riempito il buffer ho fatto un buffer di interi ho fatto dieci put alla undicesima put e non c'è più spazio per metterli l'altro lato quindi ritorno meno uno un po' risidiero nel caso in cui c'è spazio data di put è uguale a value quindi metto value nel settore a quale indirizzo a quello put pause incremento put pause e controllo se put pose è uguale a max size nel caso lo metto a zero quello che faccio è un drop around è un modo per implementare un buffer circolare alla fine non è questo l'importante se ci pensate un attimo sul codice vedrete che più o meno funziona e poi incremento size per ricordarvi che il numero di elementi che ho messo nel buffer circolare e poi ritorno a zero invece qui abbiamo qget che serve per prelevare l'alimento se size è zero e se faccio una get dal buffer circolare ma nel buffer circolare non c'è non ci ho ancora messo niente e ritorno un codice di euro nel caso in cui ci sono dei dati meglio uguale data di get post ossia vado a prenderlo il dato dall'indice get post incremento anche get post se è arrivato a un size lo rimetto a zero e decremento size per ricordarvi che ho toccato un elementi dal buffer mentre all approach mettate metodo qdans come abbiamo detto serve di allocare la memoria per il buffer circolare con la free pasta ok l'implementazione come potete vedere è fatta da una copia di file del report anche in modo da superare il modulo da presto del programma questa è una buona pratica di programmazione l'implementazione fa uso di variabili globali queste perché devo salvare dello stato tra le varie chiamate a funzione se io faccio qimit poi faccio qput devo andare a mettere il dato nella zona di memoria che è allocata chiamando la funzione prima per ricordarvi dov'è questa zona di memoria che è allocata ora immaginiamo che questo funziona però immaginiamo che nel mio programma ho bisogno di più di un buffer circolare perché una parte del programma ne ha bisogno di uno una parte ne ha bisogno di un altro ora ovviamente copia incollare questi due file e fare q2init q2put q2get q2dan non è una buona idea perché se ho bisogno di un terzo maffio circolare devo di nuovo proprio incollare il codice quello che devo fare è rendere questo codice parametrico quindi come lo faccio al posto di avere tutte le mie variabili globali faccio una struct qui dentro faccio una struct che contiene le stesse variabili globali di prima qui data size size compose check pose a questo punto le varie quattro funzioni di prima si prendono un parametro in più che è la struct in questo modo se io ho bisogno di tre barbe circolari se ho bisogno di tre barbe circolari mi chiamo tre istanze della struct e chiamo tre volte qinit il codice se andate a vedere non stavo lì a farlo passare è la stessa cosa solamente che invece di fare data devo fare q frecina data perché devo accedere dal campo data della struct q che mi sto passando ok questo per quanto non ci siete abituati del codice così potrebbe essere il capitato di scrivere magari anche un esame oppure per prepararvi oppure perché avete voglia di programare un po' di cibo per i cazzi vostri ok per quanto non siete a pensarci questo codice definisce un nuovo tipo dati la coda se ci pensate facendo il confronto tra un tipo dati dativo del compilatore l'int e la coda che avete definito voi dell'int se ne possono creare più distanze dentro il mio main faccio in a in z in c anche qui posso fare q struct a struct b struct c ok sia la coda che l'intero hanno delle operazioni applicabili nel caso di ist le operazioni sono quelle definite dal compilatore più meno per diviso poi abbiamo gli shift gli end vint a vint sono tante e nel caso invece della coda le abbiamo le dinte noi e sono init put get e run ok e nel definito appunto il programma dove ha scritto la coda la coda è un tipo dato astratto ossia una classe allora è un tipo dato astratto ossia una classe no perché i dati la struct q sono separati dalle operazioni abbiamo da un lato la struct e dall'altro le funzioni e quindi non esiste incapsolamento significa che io da dentro il mio mail posso distanziare la struct coda e andare a mettere mano alle variabili data alle variabili max size put pause get pause potrei anche farmi delle mie funzioni che accendono questi dati quindi succede che se qualcosa non funziona nella coda il mio programma va in test dove vado a vedere cosa c'è che lo fa potrebbe essere nelle funzioni init done put e get oppure potrebbe essere in qualunque altra parte del mio programma proprio perché il programma qualunque parte del programma può accedere direttamente ai campi dell'attract e può fare casini ok quindi si passa da cf++ introducendo la classe coda allora nell'esempio prima non ci stanno tutti e due in una pagina quindi non ve li mostro sta in qualsiasi ricordatevi un attimo come diceva prima il q2.h che sarebbe questo con la struct e le quattro funzioni invece andiamo giù qua e abbiamo la classe coda quindi abbiamo q3.cppi e q3.h ora la sintassi non è cambiata di molto invece di avere struct q abbiamo class q si apre con la graffa si chiude con la graffa c'è sempre il punto di virgola come prima delle struct q qui dentro abbiamo i dati data max size size post 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 i dati si trovano nella classe così come prima si trovavano nella struct solamente ne sono fra i dati due punti qua le funzioni per accedere ai dati non sono più delle funzioni dichiarate sotto ma si trovano anche loro dentro la classe e ci hanno un public due punti questo già dovrebbe farvi intuire che public significa che si possa accedere da per tutto private significa no ok inoltre come vedete in put get and contrariamente a prima in cui bisogna sempre passare di voi prima parametro la struct struct q struct q struct q qui non è più necessario perché poiché sia i dati che le funzioni sono all'interno della stessa classe la classe ha un modo per accedere direttamente ai suoi dati senza che niente devo passare ogni volta come primo parametro ovvero quando invece si va vedere l'implementazione in realtà le funzioni sono rimaste uguali l'unica cosa è che per dire che questo è un metodo init della classe q devo mettere q due punti due punti init che è la sintassi il nome della classe e due punti due punti il nome del metodo quindi in realtà anche se nella forma sono rimaste più o meno uguali in realtà questi 4 sono diventati 4 metodi di una classe mentre se andate vedere prima qui si accedeva data con q data qua si accede con dis data perché prima init si prendeva come parametro la stack di 9q invece qui i dati sono nella classe e quindi si fa dis frecina data dis è la parola chiave del c++ che consente di accedere i dati di una classe perché consente da dentro un metro di una classe di accedere i dati della stessa classe il codice è una data che è cambiato solo solamente che al posto dei codici di errore si è passata l'eccezione solo per mettere il codice un po' più leggibile ok programmazione obiettamente la evoluzione delle parti allora analizziamo uno o due i cambiamenti del passaggio della c++ allora chi vuoi è stato dichiarato come ho già detto prima classe antica practice sono comparte le pubbliche private per definire l'incapsulamento quelle le vedremo bene in seguito le funzioni init, put, get and down sono diventate dei metodi e sono state dichiarate all'interno della classe nel passaggio della funzione metodi scomparse il parametro start che diventa complicito nel punto cpp invece abbiamo l'implementazione dei metodi che è simile a quelle delle funzioni di prima però il nome è pari a nome classe e due punti non è metodo ok l'agcesso ai dati avviene tramite l'uso di dis in realtà nella maggior parte dei casi si può anche aumentere nel senso se voi andate qui sopra nel compilatore fate data uguale di win land il compilatore sa che data dovrà vedere in la classe però qui essendo il primo esempio di programmazione oggettoriale lo trovo più didattico a mostrarvi disso e cina data in modo che mi sentite lo stesso? alza la voce e alza la voce oramai è la quarta voca che faccio le due ore qua e le due ore di esercitazione prima la voce non c'è più non si riesca allora ok questo l'abbiamo detto e vabbè nel passaggio da cire più più sono state utilizzate le eccezioni al posto dei codici di errore e di un delitto al posto di mano che è in realtà il cambiamento concettuale come si utilizza la seconda finora abbiamo visto la libreria la libreria c'è il modulo il .h e il .c o il .h e il .c adesso vediamo un attimo un main di prova che è un'unica questo modulo nel caso del c dobbiamo prima dichiarare la nostra coda poi dobbiamo chiamare qinit passando gli e-commerciale coda e-commerciale coda che è un puntatore e perché comunque devo passarlo per riferimento non per valore perché questa è l'unica modifica della coda passando di 10 per esempio voglio una coda di 10 interi poi faccio qput q1 q2 q3 metto 3 interi nella coda poi dichiaro un int faccio get e questo mi ritorna il primo valore 1 poi faccio il primo valore poi vengo il secondo valore e leggo il terzo e poi i dati per adottare la memoria questo è un esempio semplice per vedere come si usava la coda invece nel caso della classe coda io qua ho il 20 faccio qq esattamente come prima invece di fare qinit passando di q essendo un metodo si usa la notazione punto che è un'estensione se ci pensate della notazione punto delle strati in c che nel senso in c posso fare nome le distanze della strati punto nuovo campo quindi posso accedere dai dati che sono nella strati utilizzando il punto invece in c posso utilizzare il punto per chiamare dei metodi nella classe quindi q.init chiamare il metodo in facendo come va 10 poi faccio più punto 1 2 3 mt come va toccando tre valori nella cosa e poi li vado a leggere facendo punto get in tutti i casi poi alla fine faccio dann perdendo carta ora oramai siamo siamo alla fine ok a uno a uno i cambiamenti allora le stagioni di classe si chiamano oggetti esattamente la classe è come il tipo d'anti int una volta che ho un int posso crearne tante istanze di int ossia posso fare il d anche qui la classe è q l'istanza è la un minuscola qui anche qui potete creare le tante quante ne voglio posso fare q 1 q q q q 3 ok e le varie istanze delle classi si chiamano oggetti quindi q è una classe mentre la qua è un oggetto ok le istanze si richiamano con due classi spazio un oggetto q spazio u un virgola ok la è uguale a quella per dichiarare una paviglia come i 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 il problema che non è risolvibile nella versione in green è che quando io creo un'istanza della struct poi devo ricordarmi di fare più init se accendo direttamente alla coda senza prima aver fatto init cosa succede? la variabile data dentro non sarà inizializzata quindi il punto dove punterà chissà che cosa e il mio programma andrà in crash quindi significa che devo ricordarmi di fare due cose di chiamare la struct e inizializzarla ok come abbiamo detto c'è lo stesso problema nella versione C e per adesso nella versione C++ perché se andiamo a vedere qui sopra faccio QQ e Q.init in C++ però c'è un modo per evitare questo problema ossia per fare contemporaneamente distanziazione di un oggetto e la sua inizializzazione e questo si fa tramite il contatore di inizializzatore allora questa è la stessa classe coda di prima qui è stato aggiunto un contatore di inizializzatore se andate a vedere nella classe è scomparso il metodo init ed è scomparso il metodo done altro posto è arrivato un metodo che ha lo stesso nome della classe Q e che si prende come parametro la dimensione della coda alla fine del mondo è la stessa funzione del metodo init è un metodo che si chiama come il nome della coda ma con una tilde prima che se andate a vedere l'implementazione faceva fa la stessa cosa che faceva il done prima ossia deallocare la memoria qui abbiamo QQ e qua abbiamo QNOT ok questo è lo stesso codice di prima di Kini e questo è lo stesso codice di prima di Dan altra cosa interessante è che se andate a vedere questo e questo non ritornano nessun parametro questa è una funzione che ritorna void se una funzione non ritorna niente ritorna void questa funzione ritorna qualcosa ritorna niente invece questo metodo e questo metodo sono gli individui metodi in una classe che non possono ritornare niente ok questo sarebbe il costruttore e questo è il distruttore cosa succede? allora un costruttore ha un metodo il cui nome è uguale a quella della classe può prendere dei parametri ma non ha mai un valore di ritorno nemmeno void una classe può avere più di un costruttore con diverso numero o tipo di parametri l'implementazione del costruttore viene chiamata automaticamente e qui sta la differenza rispetto alla versione di prima ogni volta che si cria un'istanza di un oggetto quindi significa che il programmatore può mettere dentro del costruttore il codice per assicurarsi che l'oggetto sia inizializzato e il programmatore che poi crea le istanze dell'oggetto non può dimenticarsi perché questo metodo viene chiamato automaticamente dal compilatore all'opposto invece il distruttore è un metodo il cui nome è uguale al nome della classe preceduto da una id il metodo non prende parametri e non metterò da nulla nemmeno void una classe può avere al di un distruttore quindi o non ce n'è nessuno o nella uno non può avere due e l'implementazione qua ci dovrebbe essere scritto il distruttore l'implementazione del distruttore viene chiamata automaticamente quando si distrugge l'istanza di un oggetto quindi il programmatore può scrivere il codice per garantire la finalizzazione delle risorse cosa significa per esempio di allocare memori in modo da allocare memori di o qualcosa del genere e poi l'importante sono chiamati automaticamente se andiamo a vedere l'esempio questo è un esempio di prima è un po' più in colla dell'esempio di prima qqq.init.put.get done questo invece è l'esempio con il costruttore di centro faccio qq e gli passo direttamente la tonde 10 quello che succede è che in questa viga qua crea un distanza nella classe q e chiama direttamente il costruttore passando agli 10 come parametro poi put put di atts e quando c'è proprio niente qua ci sono un commento per dire quando ritorna il main prima che ritorna il main viene chiamato da solo il distruttore e quindi questo e quindi non c'è un memory diciamo perché viene reallocata la memoria della cosa ok andiamo a vedere un attimo una cosa finora abbiamo allocato gli oggetti sullo stack esattamente come si farebbe con un intero in una in una funzione per chi conosce java in realtà gli oggetti in java si possono allocare solo nel link invece in c++ si possono allocare sia sullo stack che nel link nell'esempio che abbiamo fatto prima che avevano lo scontato in c++ in c++ in c++ in c++ in c++ si dice come sto tenendo l'istanza se tu la vedi 1 ok questo perché fin tanto che alloco gli oggetti in un stack semplicemente faccio così come faccio int io faccio più un punto in mia zona e io ho un'istanza di questo oggetto se invece lo voglio allocare nell'int così come allocare un intero con puntatore all'int uguale di un int posso fare puntatore oggetto o uguale di un progetto e poi anche mi devo ricordare di fare degli però ok la stessa cosa si può fare con gli oggetti e qui abbiamo l'esempio in cui la classe più è allocata sul stack quindi così come avrei fatto int io faccio più q e qui non faccio niente perché così come quando il distanzio un'int non lo ritornavano di fare niente e anche se non faccio niente il struttore viene chiamato nel caso in cui però di allocare una coda sull'int e faccio puntatore a coda q uguale q coda e alla fine devo ricordarvi di fare la delit esattamente come devo allocare la variabile allocata nel in generale il fatto è che quando io faccio una delit viene anche chiamata il distruttore in modo che quando io alloco questa memoria viene chiamata una funzione della classe coda che al suo volta dellocherà la sua memoria perché la coda come io continuo la memoria è ultima cosa fabbrica private allora una delle caratteristiche principali della programmazione è l'incapsulamento la possibilità di vendere alcuni dati e aumenti privati chiamabili di solo dall'interno della classe questo è importante perché allora se il retto del programma non può accedere a parte della classe queste parti possono in futuro essere modificate senza che i codici si raccorse e questo è un modo per consentire di scrivere i codici e continuare pian piano senza dover cambiare tutto un grosso programma perché se io ho un programma di dimensioni arbitrali ho la mia classe coda e le ho usate in varie parti del programma e faccio dei cambiamenti della classe coda ma li faccio solo alla parte privata senza che senza modificare la parte pubblica senza modificare la semantica della parte pubblica io la modifica è limitata sulla questa parte del programma tutte le altre parti che andranno ad utilizzare la classe coda non si accoglieranno della differenza se la modifica che faccio un'ottimitazione il programma va più veloce dove dovrebbe verificare solo una piccola parte inoltre se il resto del codice non può accedere a parti del classe non può commettere errori nell'uso di questi dati ok come avevo fatto se tutti possono generare i dati e si scopre facendo le bugging che c'è un memoria o qualcosa di buone nella classe coda dovrei andare a cercare tutto il programma dov'è che sto usando male i dati della classe coda invece se tutto è limitato all'interno della classe valutati le bugging è certificato ci permette a disposizione le tue public e privacy per dimmi quale parte di un'altra di progettazione e quale allora allora sia a metodi che dati possono eseguire i public però è considerata una buona pratica di programmazione a vendere public sui metodisti perché se io vendo public i dati poi ci posso fare quello che voglio e di solito se io vendo public il metodo accede ai dati però dentro c'è il codice che controlla che ci sta accedendo bene ai dati se io vendo i dati non posso fare che succede ok quindi se io ho un dato privato e ho bisogno di accedere dalla chiamata si fa questa modalità di programmazione questa pratica di programmazione della programmazione unico di orienti di famigli entere setteam dove è un get e non setteam sono due litri uno get mettiamo che è un dato privato di unico che è un metodo che mi torna e setteam che è un metodo che assegna gli cambi ok questo è un esempio di una classe più qualunque che ha public un metodo pubblico e un dato pubblico private con un metodo privato e un dato privato io intanto una classe chiamo il metodo pubblico e va bene accedo al dato pubblico e va bene chiamo il metodo privato e il compilatore mi da errore ai metodi e ai dati privati chi possa accedere solo da dentro i metodi della classe per esempio il metodo 1 è un metodo pubblico della classe potrebbe accedere a bar 2 e potrebbe chiamare metodo 2 perché sono tutti all'interno della stessa classe private quindi significa è accessibile solo da dentro la classe il main non fa parte della classe quindi non può accedere a metodo 2 e a bar 2 ok per ragioni di tempo che oramai è finito ecco molte altre caratteristiche del cifre più sono state saldate le venditalità delle classi le venditalità pubblica tanto la vedrete in ingegneria del software protente perché sia lunga parte che private o i marchi che sono modi per chiamare il modo dinamico delle funzioni quando ho venditalità classi virtuali comunque altre cose passaggio per evento e una serie di altre cose diciamo ok tra cui è una trattazione primattiva che ti avrete per essere chiede perché questo è un'esercizio che è un'esercizio quindi potete andare a vedere questo web è disponibile anche come prima un'esercizio invece esiste anche questo sito in una strada che mostra oltre scrittura molto bene su qualsiasi attraverso quindi se state scrivendo nel codice avete dei dubbi andate su questo settore ok ho finito grazie 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 grazie